Bene, rieccoci, ora andremo a constatare i danni verso caso l'Unisana, ossia provincia rimasta. Qui siamo ancora a provincia di Luffa, andiamo a vedere dall'altra parte cosa succede. Luffa! Qui ieri sera la strada era franata, guardiamo un po' com'è la situazione. Qui era tutto completamente allagato, infatti potete vedere che qui è completamente franato. Qui seguiamo. Qui si acconfiene. Dio. 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 Moltuncata.